Siamo qui, siamo pronti per partire per questo viaggio a piedi, sarà un viaggio certamente faticoso, cammineremo otto ore al giorno salendo e scendendo per le valli che costeggiano il lago di Garda, quindi un luogo ricco e meraviglioso e la bellezza del Garda ci accompagnerà durante tutto il cammino. La cosa che a noi sembra interessante è che il camminare, il fare un passo dopo l'altro è intanto una metafora importante di come fare bene le cose, è qualcosa che ci aiuta a rallentare ed è qualcosa che ci aiuta a pensare e immaginiamo di poter, come dire, goderci una conversazione che faremo in gruppo perché siamo in tanti e anche una conversazione che il cammino sostiene con noi stessi e con se stessi, aiutati come dicevo dalla bellezza del luogo. L'altra cosa che ci sembra interessante è che la bellezza del luogo e la fatica ci connettono con il senso del limite e pensare attorno al senso del limite crediamo che possa essere qualcosa di molto significativo e di impattante, diciamo così, per quanto attiene a ciò che può essere utile immaginare durante il viaggio. Il documentario che noi gireremo sarà il lavoro finale di questo corso di documentario per la scuola civica Lucchino Visconti di Milano e noi seguiremo cercando di fare un racconto per immagini di questo percorso educativo. Il documentario sarà sviluppato su due piani, quindi un piano interno di narrazione che è quello dei ragazzi che useranno dell'action cam per raccontarsi come una sorta di loro diario personale e un diario invece, è una parte diciamo esterna, un piano esterno che è quello della nostra troupe che cercherà appunto di seguire le dinamiche del gruppo mettendo i paesaggi e tutti gli elementi della natura. Quello che uscirà da questo lavoro sarà principalmente un discorso sull'esperienza, non tanto su altre dinamiche come quelle del reato o dei singoli, ma le dinamiche del gruppo, dell'accorgersi diciamo del bello e delle simbologie stesse che ci offre questo percorso. Allora il progetto a piedi nasce da un'idea della cooperativa sociale area in collaborazione con il laboratorio di psicologia della facoltà di psicologia appunto dell'Università Cattolica di Brescia è cofinanziato dalla Fondazione Comunità Bresciana. L'idea è di fare un cammino lungo una settimana intorno al lago di Garda per circa 140 chilometri e l'idea è di aiutare i ragazzi attraverso il cammino a riconnettersi con i propri sentimenti attraverso il corpo, attraverso il gruppo. Partiremo oggi da Manerba e il tragitto ci riporterà qui ancora a Manerba tra sette giorni. Alcune tappe sono brevi altre un po' più lunghe, ci sarà sicuramente la dimensione della fatica perché camminando c'è un po' di fatica ma c'è anche la dimensione del divertimento, della possibilità del gruppo per pensare insieme camminando. Qual è la differenza o l'aspetto positivo di effettuare un cammino che è in questo caso riabilitativo esterno rispetto a una riabilitazione in struttura? Diciamo l'idea di poter fare un'esperienza esterna a che vedere proprio con l'idea di fare esperienza, i ragazzi fanno sempre più fatica a fare esperienza a tutto tondo. Questo sicuramente ha a che vedere con il corpo e quindi un'esperienza anche corporea che ha a che vedere con le emozioni, che ha a che vedere anche con l'ideazione e con il pensiero. Infatti come il cammino si fa un passo alla volta, anche la parola si fa una parola alla volta e anche l'idea di fare un'esperienza come questa è provare a riconnettere appunto i ragazzi con queste dimensioni.